Il massimo campionato regionale è giunto alla decima giornata del girone di andata. Domani le formazioni si affronteranno a partire dalle 14.30. Match casalingo per l'Olimpia Riccia, che ospiterà le Acli Campo di Pietra, solo per questa gara in campo alle 15.00. Entrambe le squadre sono ad otto punti in classifica e reduci da una sconfitta. I ragazzi di mister Mario Cordone sono stati espugnati dal Boiano per 6-1 ed è la terza sconfitta consecutiva per loro. Gli undici di mister Carmine Rienzo invece cercano riscatto dopo il tonfo interno contro il Roseto. Sono quindi molti i punti in comune tra questi due team. A quelli elencati si aggiunge sicuramente l'obiettivo condiviso di raddrizzare il tiro e di porre rimedio agli ultimi insuccessi. Non sarà facile aggiudicarsi la vittoria. Fischietto di gara il signor Pasqualino Fattore della sezione di Isernia. Al Venditti la polisportiva gambatesa incontrerà il Termoli. Domenica scorsa i padroni di casa sono stati i protagonisti di una partita piuttosto accesa contro il Rocca Sicura che ha visto vittoriosi gli undici di mister Claudio Bonomi nonostante alcune decisioni arbitrali dubbie. I biancoverdi con il favore del campo lotteranno per rimediare all'ultima sconfitta ma gli avversari non sono tra i più agevoli. Il Termoli infatti si è aggiudicato l'ultima sfida contro l'Alife rifilando ai casertani ben cinque reti. La direzione di polisportiva gambatesa Termoli è affidata all'arbitro campobassano Marco Aurisano. Il Boiano resiste inaspettatamente e lo fa alla grande. Gli undici di mister Carmelo Gioffre restano imbattuti sino ad ora meritando senza dubbio la seconda posizione in classifica. Solo due punti li separano dalla capolista Vasto Girardi. Dopo la schiacciante vittoria a Casalinga contro l'Olimpia Riccia per 6 a 1 ed il recupero vittorioso di mercoledì contro la Frentania il Boiano sarà ospite del Real Guionesi reduce invece da un KO contro la squadra di Serra Capriola. I locali quindi affronteranno una delle formazioni più ostiche di questa stagione ma puntando sul fattore campo non si faranno di certo trovare impreparati. La sfida sarà avvaiata da Simone Dincecco della sezione di Perugia. L'ultima gara in programma vede protagoniste due formazioni molto competitive, Roseto e Rocca Sicura. Negli ultimi turni di campionato ambe due hanno collezionato numerosi successi. Cinque vittorie consecutive per il Roseto che domani ospiterà un vero e proprio osso duro. Cinque vittorie consecutive per il Roseto che domani ospiterà un vero e proprio osso duro. La rosa di mister Claudio Bonomi che è quarta in graduatoria e punta a continuare con la serie positiva. I padroni di casa dovranno fare a meno di un uomo, Pietro Tusiano, squalificato per una gara per recidiva in ammunizione ma non abbasseranno la guardia in questo match dal pronostico incerto. A dirigere la gara il signor Carlo Esposito della sezione di Napoli. Si prospetta dunque una domenica davvero entusiasmante che servirà a delineare ancora meglio la classifica di campionato. Grazie a tutti.